Tenere le città pulite è importantissimo, tanto è vero che Arezzo, vedete, guarda Rita, girati perché c'è quell'ape, uno passa per la plastica, uno passa, i cartoni invece sono lì, l'hanno messo i sacchi neri, come diceva Mal, sacchi neri, vai con lui ma non amore, poi c'è la normale amministrazione, cioè i cestini, io avevo da buttare via una cartina e sono venuto qui, siamo, tra l'altro in piazza Saiacopo, non è che siamo a Cigiano, ecco qua, se uno volesse buttare via una carta voi mi dovete dire come cazzo fa, e allora con tutte queste macchine, con le ventole davanti, litro pulitrici, quelle che dietro fanno il polverone, ma che dentro ci trovi quelli che telefonano, fumano tutto, ma i spazzini di una volta, lo spazzino di una volta, si sono evoluti, si chiamavano spazzini, poi si chiamarono operatori ecologici, no, netturbini, perché c'è stato come nett dell'opera di transizione del verga verista, lo spazzino, prima di diventare operatore ecologico, diventò netturbino, perché è l'unnetta, pulire l'unnetta, l'urbe, no, netturbino, e ora vi ricordo, a proposito di pulizia, che all'università avevamo un bellissimo detto che diceva chi col dito il cul si netta, dopo in bocca il dito metta, e così riman pulito, carta, culo, bocca e dito.